Sicuramente, ma io li ho trattati sempre molto seriamente. Sì, lo so, però adesso ne stiamo un po' ridendo, non mi sembra il caso. Non lo sto ridendo. Vabbè, insomma. Assolutamente no. Mi sembra veramente vergognoso che una persona accusata per diventi abusi sessuali, soltanto quelli denunciati, poi venga beatificata. Trovi anche un postulatore addirittura. Poi non mi sembra che la Chiesa sia mai... C'è questa omofobia, questa sessofobia nella Chiesa, e tra l'altro cercano poi di coprire quello che succede, ma ci sono anche casi di suore violentate, suore che vengono, che restano incinte, e magari sono costretti a lasciare poi i loro ordini, vengono espulse e magari si trovano senza nulla per le strade, poi a prostituirsi. Sono tutti questi casi che sono tra l'altro al baglio anche della comunità europea, del Parlamento europeo. Cioè, questi sono realtà che... No, è vergognoso, magari abbiamo fatto una risata per un po' ammortizzare questa situazione che sicuramente è vergognosa e dolorosa per tutti, insomma. Sicuramente. Bene. Cioè, non c'era nessun tipo di sorriso, risata... No, vabbè, comunque, insomma, credo che questi sono argomenti molto molto delicati. Come anche sul discorso dei bambini, quello che stiamo dicendo prima, non è che stiamo forzando lì, ci mancherebbe altro. No, assolutamente, però ecco, diciamo che quando sono coinvolte tre donne, tre maestre, è chiaro che la cosa ti colpisce molto di più, no? Anche lì, ti sa perché siamo tutti portati a pensare che il pedofilo sia un uomo. Invece no, potrebbe teoricamente essere anche una donna. Certo. Bene, comunque, adesso alziamo il velo del telegiornal GR, chiaramente, perché... Eh, ci stavo dando un po' di segnali. No, perché giustamente prima parlavamo delle cose, però io, quello che dicevo, si parla di sessuofobia, omofobia, la Chiesa è subito, cerca di condannare queste cose, però poi cala il velo dell'omertà quando si parla di corruzione, concussione, oppure magari anche mafia e omicidi. Quindi, perciò questo è l'andazzo della Chiesa che poi cerca in qualche modo di incunearsi anche nelle lezioni della... nella laicità dello Stato, quella che dovrebbe essere la laicità, ma non c'è, effettivamente non esiste. Tagliamo corto. Comunque, tagliamo corto, dai. Taglia corto, taglia corto come il... appunto il film breve, direi, di... Film breve di Pia Francesco Camparella. Pia Francesco Camparella e adesso GR, lì nella regia Giuseppe Saboca e poi linea ancora a noi per continuare a parlare. State ascoltando Radio Roma. Suspiria dai demoni, appunto da Claudio Simonetti per un tributo ad Ergento, però ritorniamo ancora a parlare di taglia corto, però non tagliamo corto, continuiamo a parlare appunto di Jack Lametta e appunto che è il tema principale, appunto l'ispirazione di questo film breve, come appunto l'ho ribattezzato io oggi, però adesso non voglio più chiamarlo cortometraggio, perdona Pia Francesco, ma... Film breve. Film breve, ricordiamo, perciò cancelliamo qui cortometraggio. Film breve, lo cancello proprio. Va bene. Film breve, diretto da Pia Francesco Campanella, scritto da Renzo De Luca, interpretato da Elisabetta Rocchetti, Cosimo Fusco, Emanuele Oliverio, Alberto Marino, Giampiero Cori, che per la prima volta sullo schermo, Emy Bergamo, che sta qui con noi, alla tua destra. Emy Bergamo è qui! Io so che sono dei progetti, Emy, perché io poi so tu che devi lasciarci un po' prima della trasmissione, perché prima della fine, tra l'altro più tardi sentiremo anche Elisabetta Rocchetti, però abbiamo aspettato proprio per dare più spazio appunto a Emy. Ai presenti. Ai presenti, anche tu vai via? No, no, ti piacerebbe, no, no, prima della fine. No, dar più spazio a Emy, perché giustamente lei va via, poi facciamo subentrare Elisabetta. Parliamo dei progetti futuri di Emy, dai che siamo curiosi. Allora, progetti futuri, ce ne sono tanti, bisogna concretizzarli questi progetti, però per adesso c'è il film con... L'importante è che intanto siano in fase embrionale, poi dopo c'è il parto, va bene. L'allenatore del pallone 2, che sarà di Sergio Martino, Collino Banfi, e sarà la prossima esperienza cinematografica che farò, si registrerà il 21 agosto e andrà sul grande schermo, penso, verso Natale. In più sto avendo una collaborazione molto importante con il grande maestro Vince Tempera, che saluto. Speriamo, insomma, che questo progetto ci porti a Sanremo, ci porti avanti musicalmente. Quindi sì, mi piacerebbe tanto, oltre a cantare e a ballare, essere anche, diventare un'attrice. Ora iniziamo con questa collaborazione dopo Pierfrancesco Campanella con Sergio Martino e speriamo di continuare la collaborazione con Pierfrancesco Campanella. Assolutamente sì. altri progetti e che quindi a questo punto si ricorderà della cara Emy, al tempo opportuno. No, volevo dire una cosa, Emy, facciamo un patto. Se vai a Sanremo, io vengo con te, ti accompagno. Ma quello sicuramente, caro, ti voglio in prima fila. Se vai a Sanremo, verrò a Sanremo anch'io, con te. Va bene, va bene, questo sì. Che sia di buon auspicio. Sicuramente, come lo sei stato già. Lo sai che ci tengo tanto e sarebbe un sogno che tu vada a Sanremo, dai. Dai, speriamo. Però prima di andare a Sanremo dovresti fare un altro film. lei lo interpreta e giudice delle porti di fortuna. Così, almeno così non apprendono più. Ma sicuramente a Sanremo perché le porti di fortuna, no? Speriamo, speriamo di prima di cercare di fare. Con la mia presenza è già una garanzia. È vero, è vero, è già una garanzia. Quindi questi sono i progetti, insomma, per il momento. Il bagaglino non si sa perché Pierfrancesco Pingitore io lo stimo molto proprio per questo. Non è una persona che parla molto, che promette molto. Se dice, è sempre dosato ciò che dice, te lo dice sempre all'ultimo. Però è più bello, proprio perché ti godi questa sorpresa finale. Vabbè, deve essere giustamente in sintonia col copione dell'ospettacolo, sicuramente. Eccoci. Siamo già arrivati in pubblicità. Ecco, la logia ci chiama la pubblicità. Facciamo, salutiamo Amy in frattempo. Resta ancora, resta ancora, resta ancora 10 minuti. Ok, resta ancora, poi vi saluto dopo. Sentiamo la pubblicità e poi rientriamo. Sì. Ritorniamo ancora in studio con la pubblicità che incombe, purtroppo, vedete, la radio commerciale è importantissima. Ma purtroppo perché? La pubblicità è da vivere. Se tu sei qui lo devi anche alla pubblicità. Certo, io certamente. Anche se tu sei qui, anche se possiamo parlare di tagliacorto. Ma anche io, però purtroppo nello stesso tempo ci interrompe quello che il discorso, tra l'altro Amy stava parlando, voleva parlare, ha detto mannaggia la pubblicità che adesso mi interroga. C'ha anche consentito di prendere una boccata d'aria, di refrigerarci un po', di bere delle squisite bevande che tu ci hai gentilmente offerto, quindi anche quello serve. Bene, ritorniamo a parlare di tagliacorto. Tagliacorto, Amy Bergamo, tra i protagonisti di tagliacorto, ogni sera è stato proiettato alla Casa del Cinema di Roma, Via Veneto, Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1. Largo Marcello Mastroianni, infatti c'è questa bellissima foto, diciamo, gigantografia di Marcello Mastroianni di presso. È un posto bellissimo, è un posto bellissimo per fare una serata, io ero terrorizzato, devo dire la verità, perché è sempre un'emozione, quando proponi una cosa non sai la gente come reagisce. C'erano due ricevimenti ieri sera, il tuo e un altro sotto, e io naturalmente ho sbagliato il ricevimento. Ecco, non c'era dubbio. Anche altre persone ha saputo che insomma hanno... In compenso, noi abbiamo avuto molti imbucati nel nostro buffet, abbiamo avuto molti imbucati dell'altra proiezione. Non lo sapevo, c'è stata questa specie di osmosi. Io non l'ho assaggiata perché mi si era chiuso, lo so, poi mi hanno detto c'era una pasta dei setanini alla checa, dice che erano buonissimi. Divina, io... Sì, io non l'ho assaggiata. Io no, perché sono arrivato e Pia Francesco mi ha spinto in sala, letteralmente in sala dicendo vai a vedere subito la cosa. Guarda, eccomi qua, sono arrivato, ero appena entrato. Probabilizzo il buffet di ieri perché è stato favoloso. Bene, torniamo ancora a parlare, Pia Francesco, parliamo ancora di Jack Lametta. Sì. Tu all'epoca, come hai vissuto questa cosa? Eh, te l'ho detto, un po' divertito in un certo senso perché vedo tutte le mie amiche terrorizzate, tutte le mie amiche che non uscivano la sera, prendevano precauzioni, un po' mi faceva ridere perché trovavo eccessivo tutto questo, francamente, una psicosi forse esagerata. E niente, poi mi ritrovavo... Perché le tue amiche, tu hai detto però che c'erano anche personaggi di sesso maschile e anche tu in qualche modo... Però chiaramente le donne sono più esposte e poi sono anche più indifese, no? Tu non avevi paura di andare in giro? No, sicuro se cercamente stavi a pensare giusto a me. Beh, parli bene perché sei un uomo però... Ma colpiva anche gli uomini però, eh? Colpiva anche gli uomini. Le donne più che altro di giorno, gli uomini sempre più... Sì, colpiva anche gli uomini, in effetti. Nelle ore più, diciamo, più tardi della sera. Io sono uno positivo, non pensa mai alle disgrazie. A me avrebbe terrorizzato, penso, una cosa del genere. Veramente, non sarei veramente più uscita di casa. È esagerata. Veramente, oddio non l'ho vissuta, però se era così come mi stanno raccontando, comunque tenendo anche la mia... Il volumità. Certo, ovvio, avrei avuto tanta paura, sicuramente. Sì, poi magari si era diffusa anche una certa psicosi, perché alla fine... Certo, sì, veramente. Alla fine, se vai a vedere nella statistica, ecco, nel proprio percentuale, se alla fine quando uno esce è sempre a rischio, a rischio anche di aggressioni, di rapine... Oggi come oggi, voglio dire, nel caso dell'omicidio nella metropolitana, quello con l'ombre, non è l'occhio, è emblematico, che non puoi prendere neanche la metropolitana a giorno d'oggi, perché può succedere di tutto in qualsiasi momento, no? C'erano dei casi, insomma, di tre persone, quattro al giorno, quindi voglio dire, è una media abbastanza alta, no? Sì, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno. E forse è la stessa cosa, poi, e probabilmente la media sarà quella. Poi calcola che la maggior parte dei casi non ci sono le denunce. No, sai che la maggior parte dei casi... Grazie a tutti.